Matteo è un bambino come tutti, vede, sente, ma non capisce il mondo, perché il mondo non rispetta i suoi tempi. Matteo è un bambino con autismo. Non lasciarlo nella sua solitudine. Invia un sms o chiama da rete fissa il 45505. Aiuta i bambini con autismo a trovare un mondo che li comprenda, un tempo che li rispetti. 45505, per oltre il labirinto, oltre la solitudine, c'è un mondo per i bambini con autismo. Grazie a tutti.